eccoci di nuovo vi spiego il re minore cioè voi sistemate il secondo dito questo non sono gestacci sul secondo tasto della terza corda il terzo dito sul terzo tasto della seconda corda il primo dito sul primo tasto della prima corda e cominciate a suonare partendo dalla quarta corda a vuoto queste due non vanno suonate perché se non stona ecco se ora unite la minore re minore mi maggiore la avete già una piccola canzone allora ci vediamo domani vi spiegherò ancora qualche altra cosetta ciao e buon lavoro mi raccomando state in casa divertitevi se spero che voi abbiate la possibilità di mettere le mani su una chitarra ciao